Siamo qui a Sirolo, dove sono stati sbarcati da qualche giorno alcuni terremotati e quindi sono come in una diaspora, sono trasferiti da una struttura all'altra senza sapere che fine faranno. Siamo qui al Giardino Verde di Sirolo perché ci sono stati mandati dei terremotati come pacchi, come bauli, caro Pieroni, caro Ceregioli. Non avete nessuno dei due il senso della drammaticità di queste persone, quello che stanno attraversando. È una vergogna. Le cose sono preoccupanti, direttore, perché anche ieri, oggi, sulla stampa, sulla segna stampa c'è il commissario straordinario che piange, che piange e dice che le cose andranno per le lunghe. Certo, le cose andranno per le lunghe perché questi non hanno il coraggio di dire che i soldi non ci sono. Oramai l'hanno capito anche i gatti. I soldi non ci sono, né Renzi né tantomeno Gentiloni hanno i soldi per affrontare questo problema drammatico della comunità marchigiana. Ma la cosa, direttore, è anche più pesante, più brutta, che l'istituzione, l'ente regione governata dal professor Ceregioli, bisogna rimandarlo a insegnare. Questa è la drammaticità della cosa. Perché su questo terremoto non c'è, non c'è. Che che se ne dica? La regione purtroppo non c'è. E noi lo diciamo da mesi. Spero che molti marchigiani si accorgano di questa drammaticità della cosa. Noi lo continuiamo a sostenere, ma non perché siamo una forza politica di opposizione, perché qui è la riprova, questo pomeriggio qui a Sirolo, sono arrivate decine di persone che sono state catapultate da portorecanati. Rischiano ancora una volta questi di essere rispostati. Mi auguro di no per loro, poveretti. O poveracci, perché hanno subito questo terremoto pesantissimo e allora non c'è un minimo di programmazione. Questa è la drammaticità della cosa. Ieri l'altro abbiamo incontrato degli allevatori di Arquata del Tronto che si lamentano, non sono di centrodestra, non sono della Lega, sono probabilmente persone di sinistra che erano accompagnati senza altro da persone di sinistra, da ex consiglieri regionali. L'abbiamo ascoltati e parlano come noi, parlano come noi, Ceriscioli. Questa è la drammaticità della cosa. Tu non te ne stai rendendo conto che stai portando alla deriva, o già, o già meglio, hai portato alla deriva questa regione Marche. E spero che i marchigiani, un milione e mezzo di marchigiani, si accorgano, perché lo ripetiamo e lo vogliamo ricordare. La sanità, 21 milioni l'altro giorno dati all'Airdorica, vedremo se naturalmente rispondono alle logiche nazionali e internazionali dell'Europa, se tutto il progetto che hanno costruito non è un blef, o sta in piedi, come diciamo noi. Noi vogliamo capirci bene e ancora non ci abbiamo capito bene, perché purtroppo le notizie che ci vengono a noi non sono quelle delle migliori notizie che ci dicono che il progetto rischia di non stare in piedi, perché c'è anche la 175, la legge Madia, che credo che qualcuno qui la regione Marche nessuno nemmeno l'abbia vista e vedremo cosa dirà o cosa dice nelle prossime ore, perché vogliamo studiare a fondo questo problema, perché siccome diciamo le cose, abbiamo detto le cose per i dirigenti nel 2015, appena insediati, ci ha risposto l'assessore Cesetti, non vi preoccupate, abbiamo avuto ragione, abbiamo avuto ragione, perché sono stati sospesi dal TAR, abbiamo avuto ragione, altro che cosa dite, purtroppo, e o per fortuna, purtroppo per loro, per fortuna per noi, riusciamo a vedere un po' più il in là, come si dice, in dialetto del naso, guardiamo un po' avanti, guardiamo avanti, la lega guarda avanti, studia e guarda le cose, allora sui dirigenti avevamo avuto ragione, sull'ardorica quando di Spacca ci diceva che non avevamo ragione, abbiamo avuto ragione, abbiamo ragione da vendere sul terremoto, abbiamo ragione da vendere sul terremoto, quando diciamo che sono latitanti, perché il buon Cericioli, buon tra virgolette, è stato anche senza tra virgolette, è stato ripreso dai rani, è stato ripreso dai rani, ha detto ma tu non fai niente qui nella regione maghe, e lui ha fatto finta di fare una doccia e di farsi scivolare l'acqua adosso, sulla persona, come quotidianamente avviene una doccia, è una gravità inaudita, l'ho detto in aula, lo ripeto qui, Presidente Cericioli, e concludo, non è come governare il comune di Pesaro, questa è una regione di un milione e mezzo di abitanti, ha altri problemi rispetto al comune, o lei entra in pista o altrimenti spero che i marchigiani lo mandino a casa il più presto possibile.